Salve, è il Dipartimento di Biologia dell'Università del Colorado? Sì, ecco, ho saputo che fate ricerca sulle cellule staminali. Bene, perché io sono in possesso di alcuni feti avvortiti che vorrei sbolognare. Quanto pagate? No, no, un tizio di Cleveland me li prende a 250 al letto, subito. Facciamo 300. Sa che mi ha rotto le palle, ci penserò! Centro medico Bosnard? Sì, avevo già chiamato per le cellule staminali. Oh, ciao Randy, sì. Oh, sì, li ho tenuti a bassa temperatura. Sono di prima qualità, non ti prendo per il culo. Allora, quanto mi potete dare? Oh, Randy, mi hai già rotto le palle. Mi hai rotto le palle? Oh, ti prego, dimmelo tu dove li trovi dei feti a un prezzo migliore di quello che ti faccio io. Dimmelo, Chuck. Oh, non penso proprio. Ascolta, sono anch'io come quei feti, anch'io non sono nato ieri. Parli seriamente o continuiamo a prenderci per il culo? Hai rotto le palle. Io ho dei feti da dar via, voi fate ricerca. Ci mettiamo d'accordo, ci rompiamo i c***i. Se non cogliete il volo a quest'occasione, fate un errore fetale. 320. Affare fatto, siamo d'accordo. Arrivederci. Sono proprio un grande. Dai, Jack, puoi offrirmi un po' più di questo. Sì, lo so che c'è il divieto di ricerca sulle cellule stabinali, ma io ho 30 feti abortiti da far fuori. Ci si potrà fare qualche altro tipo di ricerca, no? Ne prendi uno? Ok, quanto mi dai? Oh, Jack, mi hai rotto le palle, sai? Salve, parlo con il ristorante La Scogliera. Senta, io avrei una trentina di succulenti gamberi arrivati freschi freschi dall'India del Sud. Gamberi killer, Gary, i tuoi clienti li adorano. Che ne dici di 90 a letto? Ah, Gary, mi hai già rotto le palle, ti perdi un'occasione. No, Gary, cavoli tuoi. Ti richiamo io, d'accordo? Tesoro, sotto ci sono i tuoi amici che vogliono parlarti. Non ora, mamma, ho dato via solo tre feti, devo vendere gli altri prima che vadano a male. Dicono che è un'emergenza. Va bene. Butters! Che c'è? Stai aggiornando il database clienti. Ho quasi finito. Allora occupati per un attimo del telemarketing. Ah, ma ok. Ricorda cosa ti ho insegnato e segui la procedura, sul tavolo c'è la lista. Va bene.